Dalle rive della Morava alle foreste del Waldviertel, dalle zone umide della Bohemia alle vallate del fiume Taia fino alle sponde del Werthersee. Un viaggio nel cuore verde del vecchio continente. Alla scoperta del centro Europa dal 6 marzo ogni venerdì alle 21 su Caccia, canale 235. Alla scoperta del centro Europa dal 6 marzo ogni venerdì alle 21 sulle regione.